Benvenuti ragazzi, ben ritornati dal vostro giocatore, siamo tornati signori di nuovo su UFC o UFC 2 signori Siamo qua prontissimi per andare a fare qualche altro incontro, intanto abbiamo il nostro lottatore a livello 81 Perché l'ultima volta ragazzi che abbiamo giocato, è vero sì, ho preso tanti ma di quei schiaffi assurdi Però ragazzuoli abbiamo comunque potenziato molto il nostro personaggio Allora, ci scegliamo, questo sta a 90, no ragazzi è troppo ragazzi 75, 73, 90 Non lo so, voglio rischiare ragazzi, voglio rischiare, ci prendiamo lui a 90 Ma questo penso che mi distruggerà in un modo incredibile Però ragazzi gli altri erano troppo troppo inferiori a livello a me E ho voluto prendere un po' di rischio ragazzi, il bello di questo gioco è anche questo Prenderci comunque il nostro rischio Ragazzuoli, vado a fare allenare ovviamente il nostro personaggio, ci vediamo tra pochissimo Allora, abbiamo fatto allenare un pochino il nostro lottatore ragazzuoli Ci siamo infortunati dalla difesa delle articolazioni E ci siamo infortunati sopra un pochino E siamo prontissimi ragazzi a fare questo incontro Alessandrini contro Filihiao Filihiao, come cazzo ti chiami Siamo pronti ragazzi Oggi mi sento carico E questo però ragazzi ricordiamoci che sta a livello 90 di tutto Quindi Sarà tosto Allora, già una comitata gliel'abbiamo data Ecco, gli stavo dando un calcio ma Non va il calcio Non va nessun calcio Eh, ragazzi qua sono cazzi eh Bello Bello Bello, bello così Bello così ancora Ragazzi, ragazzi va bene Va bene, va bene, va bene Allora Aia Aia Andiamo di break Andiamo di break Eh, 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 eh La situazione si fa abbastanza critica Bello così Cazzarola che male Mamma mia che combinazione mi ha fatto questo ragazzi Eh, ma qui sono dolori, eh Qui sono dolori Aia Qui sono dolori ragazzi Vieni qua Vieni qua Di nuovo calcione Di nuovo calcione Ok, buoni, buoni, buoni Questo fa malissimo Portacci tua Che male Allora Aspetta Devo cercare un attimo Uno io l'ho dato Regà Non riesco a picchiarlo Non riesco a picchiarlo Ok Ok Ci stiamo scambiando Veramente di colpi assurdi Regà, eh Ci stiamo scambiando Di colpi Assurdi Bello Preso 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 L'abbiamo preso Regà Ok Sul fianco Buono sul fianco Gli stiamo facendo anche noi Leggermente danno Lui più che altro Sta puntando molto al corpo Ragazzi Ha proprio tanto Sta puntando tanto al corpo Bella combinazione Bellissima Orca troia Quanto puoi far male Amico mio Questo mena Questo mena molto sotto Ragazzi Ma dai Dai Cazzo Vieni qua Vieni qua Un attimo Eh Bastardone Taci tua Taci tua Taci le pippo Cerco Un attimo Qualche calcione Cerco Un attimo Qualche calcione Portacci tua Mi hai rotto il cazzo Mi hai rotto Madonna mia Se fa male Questo Raga Questo ci Ci sta Massacrando Letteralmente Raga Ci sta massacrando Letteralmente Vieni qua Un po' Avanza tu Ok Madonna Sai che forse L'unico modo Per me Ok L'abbiamo preso L'abbiamo preso Era buono Quello colpo Era buonissimo Quel colpo Ragazzi 15 secondi Almeno ci Ci fermiamo Oh Oh Come siamo usciti bene Come siamo usciti bene Come siamo usciti bene L'abbiamo ripreso Madonna Come eravamo usciti bene Ragazzi Mamma mia Come siamo usciti Benissimo Robio Che colpi Però ragazzi Lui punta tantissimo sotto Però gli abbiamo fatto male Mamma mia Peccato Stiamo a fare una bella combinazione Vieni qua Vieni qua Vieni qua Un attimo Oh L'abbiamo fatto cascare Vai così Vai così Postura alta Postura alta Signori Postura alta Oh Hai rotto il chiez Postura alta Aia Vai così Un po' di cazzottoni Che se riusciamo a sbragarlo Ragazzi Pure così va benissimo Se riusciamo a sbragarlo pure così va benissimo Ammazza se è tosto questo Vai così Perfetto 3 4 ragazzi 4 ragazzi Da che forse ce la facciamo Mortaccio di pippata che ce la facciamo pure a chiudere così va bene Pure così che ragazzi questo sta al 90 Sono tanti punti Sono tanti punti Sono tanti punti ragazzi Sono tanti punti questi E ce la facciamo Ce la facciamo ragazzi Anche così va benissimo Lo abbiamo mandato al tappeto E abbiamo vinto Ragazzi pure così va benissimo Abbiamo rischiato ragazzi E ci siamo presi un rischio Però signori Veramente Ho dovuto approfittare Che abbiamo fatto Buttato a terra Questo bestione A livello 90 Cioè l'abbiamo Tume fatto in faccia L'abbiamo Tume fatto ragazzi E mi alzi il braccio Arbitro Mi alzi il braccio Che abbiamo stravinto The assassin Ragazzi L'assassino E andiamo a vincere Questo primo incontro Molto importante Con un player Un lottatore Fortissimo Allora dobbiamo scegliere Un altro lottatore Questo sta al 79 89 85 Allora questo c'ha Muatai Kickboxing Quindi questo con i cazzotti E carci fa male Muatai che tolica fa Però questo ha In piedi il 100% Cling shot a tot A terra 72 Me la vado a giocare Questo con 85 Ragazzi Eh Mu vabbè che ci dobbiamo Prendere il rischio Però Fino a una certa Comunque In attesa Mi dice in attesa E aspettiamo un attimino Ed eccoci qua ragazzi Con il secondo incontro Quindi siamo pronti A cercare Di andare a massacrare Anche questo Vediamo se ci riusciamo Con il primo ragazzi Non ho approfittato Ma sei un pezzo Di merda sei Schifoso Ah schifosissimo Guarda C'è male Guardalo 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 Guarda che roba Questo Mi ha rotto il cazzo Eh Mi ha rotto I tre Quarti della Minchia Bello Bello Bellissimo Ragazzi Eh Che Che montanti Che gli abbiamo dato Lisciato Bello Questo preso No Lisciato Vieni qua Vieni qua Che sei toto Come dico io Ti faccio andare A raccogliere Mozzarelle Eh dai Su Aia No Non lo fa Non lo fa Non lo fare Vai Vieni qua Vieni qua Vieni qua Liscio Vai Preso Preso Siamo stanchi Urca 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 Pure sotto Ragazzi Dobbiamo protenderci Un pochettino Oh E lei Vado un po' Eh che Non me butta Per terra Che Mi fai Mi fai perdere Solo tempo Su Guardia piena Ghigliottina Ragazzi Ghigliottina Signori Ghigliottina Signori Vai così No Mortacci De pippo Ghigliottina Ancora Ghigliottina Ancora Eh non riesco A farla Non riesco A fargliela Ghigliottina 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 Dai così Dai così Ah niente Niente Eh la ghigliottina Non è Non è assolutamente Facile ragazzi Eh non è assolutamente Facile Guardia piena Vediamo se riusciamo Oh questo momestrozza Ragazzi guarda Questo momestrozza Basta 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 Guardia piena Non me la fai Oh Dai un po' E levate su Ho fatto Ho detto Dove le levate Mortaccio Che se sta Mantrufolando qua sotto Dai un po' No regà Ma sta a fare Ma sta a fare Ma sta a fare Me la sta a fare Me la sta a fare Porca troia Porca troia Me la stavo a fare Ragazzi Postura alta Vediamo un po' Se riesca da te Meno male che sta uscito Astro Non so Ma da chi ha più Due tre cazzottoni Da chi ha più Controllo laterale Guarda che Oh ma questo ragazzi È forte eh Rialziamoci Rialziamoci Meno male Meno male T'attacchi al cazzo Modere un po' il culo Bello 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 Ragazzi Bello signori Te l'ho detto Te l'ho detto che ti smontavo Te l'ho detto che ti smontavo Acca a te Ragà Mamma mia Che cazzo De roba Mamma mia Come l'abbiamo massacrato Di botte Questo Una raffica di pugni Incredibili C'è raga Bam Boom L'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso Mamma mia Che botte Che botte Guarda qua quanti colpi Mamma mia Amico mio Buonanotte I sognatori Volevi farmi Per un pelo Mi faceva un altro po' Mi spaccavo un braccio Ma guarda Non c'ho neanche un segno Giusto un po' l'occhio Qui mi hai dato Tre quattro ragazzottini Ma l'ho massacrato Mamma mia Oggi il giocherino Più carico che mai Prendi i suoi rischi Ma ne vale la pena Ragazzoli Abbiamo veramente Giocato molto Molto bene Signori Questo video È giunto al termine Abbiamo vinto Un'altra volta Ragazzoli siamo Troppo troppo Più forti Prima battiamo Un lottatore Con 90 Di livello E adesso ne battiamo Uno con 85 In un modo incredibile Tutti e due K Aspirante al titolo Eccolo qua Ok Fermi un po' Che è successo? Danni Meno potenzialmente Con i danni Con i danni Con i danni Diffici Rischio infortunio Vabbè Danni carriera Ok C'è il ritiro Tra un po' Lo dicevi Non lo so Vabbè Tra un pochino Susciterà qualcosa Di incredibile Ragazzi Mi raccomando Un bel palazzo In su Commentate Condividete Questo video Passiamo un bacio A Facebook Instagram Come sempre In descrizione Noi ci vediamo Un po' Se potete Il vostro Ciao signori Ciao signori